E' stata una serata molto interessante perché abbiamo toccato due temi secondo me rilevanti. Il primo è quello della corruzione interpretata come un fenomeno quasi normale, così come si legge e si ascolta da tante intercettazioni che sono riportate nel libro che è stato presentato da parte di corruttori e corrotti che ritengono quasi un'attività che venga tramandata anche di padre in figlio e che quindi questo sistema possa essere diffuso molto nel nostro paese. L'altro tema molto importante che è stato trattato è quello degli appalti, un codice degli appalti nuovo che ha modificato le norme, che a distanza di tempo ha messo in evidenza alcune necessità di correzioni e che aveva come obiettivo quello di semplificare le procedure e in alcuni casi non è stato così. L'obiettivo comune ci è stato riportato dagli interventi e quello sì di semplificare ma al contempo anche di controllare. Quindi ci sarà del lavoro da svolgere anche nei prossimi mesi e l'ANA che è disponibile al confronto con gli amministratori e anche col mondo delle imprese. Questo è un dato sicuramente molto positivo.